Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale. A poco più di un mese dall'uscita ufficiale della Super Mario 3D All Stars, possiamo iniziare a tirare le somme su come sia stata recepita dal pubblico la tanto attesa raccolta dei tre storici platform e di come Nintendo abbia gestito tutta l'operazione. Inoltre possiamo già farci un quadro un po' più chiaro di quello che sarà il futuro dei grandi classici targati Nintendo e se effettivamente il 31 marzo rappresenterà l'uscita dal commercio di tutte le versioni della All Stars. Prima di iniziare vi ricordo che stasera dalle 21.30 mi troverete in live sul sito Viola per una serata a tema Smash dove giocherò con tutti voi. Vi lascio il link in descrizione e come al solito vi invito a mettere un like al video e a iscrivervi al canale attivando la campanella delle porotifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Iniziamo! Poracci c'era da aspettarselo, nonostante tutto la Super Mario 3D All Stars è stata un vero successo. Le tre remaster potevano essere trattate con molta più cura e come ho ripetuto più volte in quanto occasione celebrativa la collection avrebbe dovuto offrire molto di più di un semplice player delle colonne sonore. Nintendo è riuscita comunque a conquistare il cuore e il portafogli degli appassionati seppur con un lavoro sotto certi aspetti troppo approssimativo grazie anche e soprattutto all'annuncio della disponibilità limitata della raccolta che sparirà dalla circolazione tanto nella sua versione digitale quanto in quella fisica dopo il 31 marzo 2021. Con una prospettiva del genere era ovvio che ci sarebbe stata una sorta di corsa esterica verso l'acquisto compulsivo e le classifiche di vendita relative al mese di settembre sul suolo americano non fanno altro che confermare il successo di pubblico della 3D All Stars. La raccolta si piazza infatti al secondo posto tra i giochi più venduti dietro solo a Marvel's Avengers dato ancora più impressionante se si pensa che non sono tenute in considerazione le vendite digitali della collection. Si tratta insomma di un vero successo il decimo gioco più venduto del 2020 senza contare che probabilmente si tratta del miglior mese di apertura mai realizzato da un episodio di Mario in 3D. Quindi tra critiche più o meno immotivate e fanbase scandalizzate alla fine tutti ma proprio tutti hanno acquistato il gioco senza pensarci su due volte il che alla fine non può che essere un risultato positivo sia per Nintendo che per noi fan. Un successo del genere non può che invogliare l'azienda di Kyoto a riproporre tramite operazioni simili altri grandi classici del suo catalogo passato e ce ne sono di titoli da ritirare fuori ma soprattutto come iniziano ad ipotizzare analisti del settore di un certo calibro come Matt Piscatella è sempre più improbabile che dopo il 31 marzo i giochi spariscano definitivamente dal commercio. Certo si parla pur sempre di Nintendo e la sorpresa è comunque dietro l'angolo ma è difficile pensare che la grande N si privi di una fonte di introiti del genere ed è facile immaginare che Super Mario 64, Sunshine e Galaxy ritornino su Switch sotto una forma diversa che non sia quella della collection. Piscatella ipotizza un futuro dove i titoli saranno acquistabili singolarmente sull'e-shop e a questo punto lo scenario mi sembra molto probabile e anzi mi aspetto che questi facciano da prepista ad una vera e propria sezione virtual console all'interno dello store digitale di Switch andando così a colmare una delle più gravi mancanze del catalogo digitale della console ibrida. Credo però che dovremmo aspettare ancora un po' per una mossa del genere visto che all'orizzonte c'è già il 35esimo anniversario della saga di The Legend of Zelda e penso che Nintendo proverà in tutti i modi a riproporre lo stesso concetto di edizione limitata a tempo anche per le avventure di Link. E voi poracci cosa ne pensate? Siete felici che i dati di vendita abbiano premiato Nintendo anche se la 3D All Stars presenta parecchi margini di miglioramento? Preferireste che Nintendo si rimangiasse la parola data e rendesse disponibili sotto qualche altra forma e tre platform oppure secondo voi devono rimanere relegati all'offerta limitata della 3D All Stars Collection. Come al solito vi aspetto nei commenti. Prima di salutarci vi invito a lasciare un like e a iscrivervi al canale attivando la campanella delle porotifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Io sono il Poro Mario, Michele Record, ciao!